L'occhio di tigre nasce dalle viscere della madre terra, principalmente in Sudafrica, e io ho deciso di raccontarvelo soprattutto perché la sua bellissima e particolare colorazione mi ha subito colpita. Questo minerale è una particolare varietà di quarzo, contenente inclusioni di amianto, che creano un effetto ottico simile alle scherzature degli occhi dei felini, specialmente a quelli delle tigri. In quanto amante di anelli e di giugielli in generale, posso direvi che questa gemma è maggiormente usata appunto come accessorio. L'occhio di tigre viene molto indossato poiché viene ritenuta una pietra protettiva e aiuta a rilassare i nervi. Inoltre, nell'antichità veniva utilizzata per scacciare il malocchio ed altri sortilegi. Ma è anche la pietra della ricchezza e del denaro, infatti molte persone ne tengono un piccolo esemplare nel portafoglio. Grazie a tutti.